E' partito oggi lo screening di massa avviato dalla regione per tutta la popolazione marchigiana, un servizio importante che permetterà di isolare e quindi di intercettare gli asintomatici. Oltre alla sede della Vitri Frigo Arena, in cui ci troviamo, dove i cancelli sono stati aperti alle 8 di questa mattina, lo screening si svolgerà anche al campus scolastico e all'Istituto Alberghiero Santa Marta. Diverse le persone che si sono messe in fila già dalle prime ore di questa mattina alla Vitri Frigo Arena, unica sede in cui non si sono registrate particolari code. Più affluenza invece al campus scolastico e all'Istituto Alberghiero Santa Marta, sebbene la prima giornata dedicata allo screening di massa avviato dalla regione si sia svolta regolarmente senza particolari disagi. Siamo partiti con un'adesione importante. Abbiamo avuto all'inizio delle file, le persone si sono presentate anche con mezz'ora, tre quarti d'anticipo sulle sedi per paura della fila e quindi un po' l'hanno creata in un certo senso. Però dopo un'oretta, un'oretta e mezzo la fila si è spenta e quindi adesso le persone affluiscono precisi. Cioè uno alla volta hanno attesa praticamente di qualche minuto, fanno il tampone rapido, hanno il risultato, aspettano in una sala d'attesa oppure comunque fuori all'aperto. Il risultato, se sono positivi, vengono richiamati per fare il tampone molclare. Comunque l'adesione è stata importante. Qui nella prima ora sono stati fatti qui solo al vitrifigo più di 200 tamponi già. Come proseguiranno poi le prossime giornate? Forse ci aspettiamo anche più popolazione il sabato e la domenica. Vediamo come va, i sanitari sono pronti, la macchina funziona e anzi forse probabilmente facciamo anche più tamponi allora rispetto a quelli che avevamo progettato e programmato. Quindi ci siamo. La negatività al test, ripeto, è un esito del momento. Non significa che tra sette giorni, se la persona rifà il test da qualche altra parte, ritorni negativo, perché il contagio può avvenire in qualsiasi momento. Per cui si prenda atto dell'esito negativo, per chi sarà negativo, cioè quasi tutti, però si continua ad osservare in maniera scrupolosa, rigorosa e tempestiva tutte le norme di prevenzione che ormai i cittadini conoscono. La campagna partita nelle Marche mediante l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti ha coinvolto tutti i capoluoghi di provincia, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli e Fermo, ai quali si è aggiunta la città di Urbino. Pesaro-Urbino è infatti l'unica provincia marchigiana che ha visto il coinvolgimento di due comuni. Lo screening proseguirà fino al 23 dicembre, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. A Pesaro verranno impiegati complessivamente 100 operatori sanitari, 120 volontari della protezione civile e 50 della Croce Rossa. La macchina organizzativa stima di effettuare solo a Pesaro oltre 28.000 tamponi rapidi. Chi vorrà sottoporsi al test non avrà bisogno di prenotarsi, basterà stampare e compilare un modulo scaricabile dal sito della Regione, Comune, Asur o rintracciabile nelle farmacie comunali. In alternativa, gli interessati lo troveranno anche all'esterno della struttura scelta. Qui verrà distribuito dai volontari dei quartieri e dalla protezione civile.